Ciao, quando sei all'inizio e inizi ad approcciare in discoteca, generalmente si fanno tutta una serie di errori che fanno sì che tu venga rifiutato molto spesso, indipendentemente dal fatto che tu piaccia o meno alla ragazza. Nella puntata di oggi analizziamo un reality show americano chiamato Keys to the VIP dove vediamo interazioni reali la notte e speriamo che tu possa imparare da alcuni di questi errori per migliorare velocemente quelli che sono i tuoi approcci nei locali notturni. Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante. Se ti interessa la seduzione ho anche un canale Telegram chiamato Gio di Lorenzo dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti. Quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. Ok, quindi si devono semplicemente introdurre a tre donne differenti, quindi quello che in gergo tecnico veniva definito come un set da tre. Ok, il primissimo problema qui è che in realtà come vedi lui entra in maniera particolarmente noiosa. e la sua energia non è ideale ma soprattutto, come vedi, c'è uno scarso interesse da parte delle ragazze nel senso che non so se guardi ma stanno tutte guardando un'altra parte. Lei probabilmente guarda qui, lei guarda qui, lei guarda qui e questo è un problema. Allora, in discoteca è estremamente importante quella che è l'energia e la delivery. Quindi se tu la cappelli all'inizio, poi rischi di far diventare quella che è l'approccio una missione di recupero. Ora, io non vedo la faccia di queste due ragazze, però penso che sia non irrealistico ma abbastanza improbabile che nessuna di queste potesse essere interessata a lui. non bagnata come se le fosse arrivato un modello di JQ, ma quantomeno dargli una chance. Quindi qui subito lui si sta rendendo la vita difficile per se stesso. Ok, e qui ancora è problematica la cosa, nel senso che lui entra non offrendo alcun tipo di valore al gruppo. E quando parliamo di valore in discoteca in genere parliamo di divertimento, ma anche del riuscire ad approcciare in una maniera che sia comunque calibrata, divertente, diversa da quella che fanno tutti gli altri ragazzi. Nel senso che in questo momento lui sta facendo quello che farebbe chiunque. Che per carità, se la ragazza è estremamente attratta da te va bene, se in realtà le ragazze sono abbastanza fredde, come queste ragazze, molto spesso non è sufficiente, anche a fronte della sua energia e di tutti quelli che sono i suoi elementi del paraverbale, di cui parlo in Carpe Night, il mio corso sull'approccio di notte, che sono francamente piuttosto scarsi. Ok, e qui c'è un altro problema, in realtà aveva avuto la possibilità di prenderla per il culo e questo magari avrebbe potuto cambiare le cose. Nel senso che ora, se non erro perché ho già visto questo spezzone, mi sembra che lei reagirà in maniera parzialmente positiva. Ma il problema è che quando gli dice perché mi dai quell'attitudine, la ragazza di questo titolo te l'ha tradotto come perché mi tieni il muso, in realtà non ha una propria traduzione in italiano. Però il fatto che lui richieda perché ti comporti così con me, significa che è reattivo. Mentre invece avrebbe dovuto semplicemente dovuto prenderla per il culo come fa esattamente dopo e poi magari girarsi verso le ragazze e dire quello che in termini old school era qualcosa del tipo Oddio ragazzi fa sempre così la vostra amica e poi fare quello che in inglese si dice high rolling, come si dice girare gli occhi in italiano, non ve lo so tradurre, spero che abbiate capito, francamente. Ecco, e qui è ridicolo, nel senso che francamente lui sta finalmente ponendo un frame che è positivo, cioè le dice va meglio così, ben fatto, ma quando inizi a fare qualcosa di positivo e se guardiamo l'espressione della ragazza, molto probabilmente lei comunque non era attratta da lui, devi continuare a far andare la palla, a far rotolare la palla dell'interazione, per così dire. Ora, da quella che è l'espressione che vediamo di lei, questo molto probabilmente non avrebbe portato da nessuna parte. Però, quello che tu puoi controllare è quello che tu fai, quello che tu dici è quello che tu trasmetti alle ragazze. Quello che non puoi controllare è quello che è l'interesse delle ragazze per te, o anche come loro reagiscono a te, perché ricorda che comunque ogni essere umano dall'altro lato con cui interagisci è nella sua testa e quindi non puoi sapere cosa succede nella testa dell'altra persona. Però, la cosa importante è che tu fai le azioni giuste indipendentemente dal singolo risultato di quella singola interazione, perché se fai azioni giuste per un numero di interazioni sostenuto, a quel punto il gioco dei numeri più skills della seduzione ti porta ai risultati. Ma se tu fai ciecamente azioni sbagliate come fa questo ragazzo, in realtà quello che succederà è che non otterrai nulla neanche se approcci. Ok, questo è assolutamente ridicolo, era completamente fuori luogo. Sì, semplicemente un errore. Doveva semplicemente mandare avanti quella che era la conversazione, magari cercare di ignorare la ragazza bionda che gli piaceva ed iniziare a lavorare le altre due per costruire valore con loro e magari provare a prenderla per il culo di nuovo, tirarci un altro neg, vedere se aveva degli indicatori di interesse delle altre due, che magari sono altrettanto carine e di conseguenza avrebbe più senso orientarsi verso una ragazza più interessata. Chi lo sa, di certo non fare quello che lui sta facendo. E a questo punto semplicemente si rende ridicolo e poi si elimina da solo, da quella che è l'interazione. E puoi vedere di nuovo la faccia della ragazza, sono, almeno le altre due non lo so, ma lei è quasi imbarazzata per lui. E' correttamente nel senso che prima si è presentato in maniera completamente neutra come qualsiasi altro ragazzo e poi si è reso anche un po' ridicolo fino ad andarsene, quindi interazione molto molto brutta da vedere. Ehm, sì, è vero, è impressionante quanto poco impressionante lui fosse, vero. Molto male, ora vediamo il perché. Come vedi, lui entra con questo linguaggio del corpo che è particolarmente strambo. Te lo faccio rivedere. Vediamolo. Non solo il linguaggio del corpo è strano, ma per di più lui le approccia anche senza comandare alcun tipo di attenzione da parte delle ragazze. Cioè, se tu guardi, le due ragazze sembrano il gruppo e lui sembra l'intruso all'esterno. E per di più apre con questa frase che può sembrare estremamente un complimento, cioè un pull la tira verso di lui senza provare alcun push, cioè senza provare a spingerla. Anche qui fatto molto molto male e francamente l'energia è migliore rispetto a prima, ma ritengo che sia migliore semplicemente per un discorso di fisiologia, cioè per il fatto che lui entra ballando, ma in realtà non ha neanche qui gli elementi della subcomunicazione che fanno sì che un approccio di notte possa essere di successo con la maggior chance statistica. Ripeto, ne parlo in carpe night. Ok, nonostante non ci sia niente di male nel chiedere il nome alla ragazza, in genere ha senso farlo così presto. Quando o tu ti presenti in maniera più diretta, cioè chiarendo quello che è il tuo intento, anziché facendo partire una conversazione per quanto l'abbia fatto con un complimento, oppure quando l'interesse della ragazza è chiaro e qui non ci sono questi elementi. Ok, e questo era il problema con quegli anni, cioè io penso che questa sia un'interazione che è un po' figlia dei suoi tempi. Cosa significa? A quell'epoca molti ragazzi avevano letto il metodo misteri e purtroppo il metodo misteri è un problema, che è troppo complicato per un principiante, nonché abbia dei spunti molto interessanti e delle cose problematiche più avanti, quando diventi più esperto e per di più, voglio dire, è stato il primo libro che veramente ha strutturato questa roba in una maniera che avesse senso, quindi massimo onore a lui, ma all'autore. Ma al di là di questo il problema è che il 99% delle persone che lo leggevano finivano a internalizzare il concetto che la soluzione fosse tirarci un neg, e in realtà non è esattamente così, nel senso che molti ragazzi finivano semplicemente a insultare le ragazze invece ad avere un'interazione che avesse senso, così come descritta nel manuale. E quindi, sì, anche qui francamente non ci siamo, puoi vedere l'espressione della ragazza come per dire che cazzo sta dicendo. Ecco, in poche parole lui sta dicendo qualcosa di simile a quello che stavo dicendo io. E parliamoci chiaro, non c'è modo di non arrivare lateralmente da dietro, eccetera, eccetera, ma tu devi iniziare subito quello che è il contatto fisico con le ragazze, girandole un po' verso di te in maniera maschile, e di conseguenza con la giusta energia iniziare a portare quella che è l'attenzione delle ragazze verso di te, e non risultare come uno estraneo nel gruppo come abbiamo visto poco fa. Ecco, e qui fa un errore drammatico, nel senso che dice magari possiamo parlare un po', e qui sta cercando fondamentalmente di fare un compliance test, cioè un test di obbedienza, quando la ragazza gli ha appena dato una reazione negativa. Ed è una cosa dal punto di vista tecnico veramente stupida che si può fare. In realtà avrebbe dovuto andare avanti a creare lui la conversazione, buttare dentro argomenti di conversazione, e creare valore. Così sembra che stia semplicemente cercando di succhiare valore in un momento in cui la ragazza sta iniziando a decidere che non è interessata. E c'è una cosa importante da dire. Inizialmente ci può stare di fare degli svarioni, tecnici per così dire, e si può ancora recuperare la cosa inserendo valore nell'interazione. Ma se tu sei in un momento in cui il tuo valore sta scendendo e cerchi di andare per un test di obbedienza, a questo punto questa è la strada maestra per rovinare quella che è l'interazione quasi nel 100% dei casi. E qui francamente, allora, è abbastanza irrilevante, nel senso che a questo punto, sì, era un po' una missione di recupero, però francamente non avrei dato tutta questa validazione dopo che al netto della sua scalibrazione lei non è stata, non si è comportata idealmente con lui. Mmm, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo con i commentatori, nel senso che se da un lato in questa situazione ha mostrato le palle, dall'altro, nel senso che si sta infilando in una situazione che è potenzialmente pericolosa. Due uomini di colore, guarda quello in camicia bianca come lo guarda, non sembrano per niente contenti, sono entrambi la sua custodia, quindi, mmm, allora, queste cose possono avere un senso quando tu hai un chiaro indicatore di interesse da parte della ragazza e quindi magari probabilmente questi due uomini si trovavano già nella situazione in cui precedentemente si è trovato lui, in cui nella loro testa erano già del tipo oddio, non so più cosa dire, magari me ne devo andare. Quando questo non è così, vi dico solo di usare il cervello, cioè ci sono certe persone che ha senso ammuggare e certe altre che magari è meglio di no. E non è che francamente queste due ragazze, la bionda non lo so perché non la vediamo, ma l'altra, la mora, siano fantastiche. Quindi, insomma, ogni tanto usare il cervello paga, quantomeno per non prendersi un pugno in faccia. E al via di questo voglio che tu noti quanto è strambo il suo body language, il suo linguaggio del corpo, cioè lui sta completamente andando verso quelle che sono le ragazze invece che mostrarsi più rilassato, con il linguaggio del corpo all'indietro, eccetera, eccetera. E' vero che ogni tanto la discoteca ti obbliga a avvicinarti alla ragazza per parlare con lei, ma non penso che questo sia il caso, perché altrimenti gli altri due ragazzi non sarebbero in grado di parlare con loro. E quindi fare lean in, come si dice in gergo tecnico, cioè propendere così tanto verso le ragazze in questo momento è un errore. Ok, lui dice Patrick, te l'ho appena detto, ci sta. E per di più, non so perché, in realtà, a questo punto sembra che lui stia indirezzando le sue attenzioni verso di queste, ma ora che la vediamo lei è molto meglio, in mia opinione, quantomeno. Quindi, a questo punto, lui dice, sono Patrick, te l'ho appena detto, e lei risponde, sì, ma chi sei? E lui inizia a giustificarsi, dicendo uno che vuole divertirsi, e qui il valore casca completamente. Già il linguaggio del corpo non l'aveva aiutato, ma la mossa era stata, come dire, alto rischio, alta ricompensa, cercando di fregarle ai due, quindi inizialmente era entrato con un po' di valore. Ma ora inizia veramente a perderlo. Quando avrebbe potuto semplicemente dirle, quando lei dice, sì, ma tu chi sei? E lui gliel'aveva già detto, Patrick te l'ho già detto? A quel punto avrebbe potuto dirle qualcosa del tipo, P come Palermo, A come Ancona, no, ti sto solo prendendo in giro. E poi girarsi verso l'amica, quella più carina che sta sorridendo, e di nuovo dire qualcosa del tipo, oddio, fa sempre così? Dimmi che di solito è più amichevole, altrimenti non so cosa dovrei pensare anche di te. Riferito a ragazza più carina che sta sorridendo. Sì, qui francamente ha semplicemente buttato quella che è l'interazione. Dico la verità, magari no, magari queste ragazze erano veramente in compagnia di questi due tipi, ma magari no, magari questi stavano solo provando a rimorchiarle, e se entra un tipo che loro considerano più fico, fanculo i due tipi che hanno appena conosciuto. Questo succede di continuo in discoteca. Quindi, in realtà, il problema di questo ragazzo è che va lì, si presenta, ma poi non sa che cazzo dire. E quindi questo uccide quelle che sono le interazioni, come abbiamo visto, molto, molto velocemente. E questo è un qualcosa che capita di continuo ai principianti, ed è per questo che è così importante sapere cosa fare tecnicamente e verbalmente, e dal punto di vista del paraverbale e dell'energia, in discoteca. Se anche tu sei agli inizi nell'approccio in discoteca, e quindi ti trovi in situazioni simili a questo ragazzo, nel mio corso Carpe Knight ti spiego esattamente cosa fare passo passo durante tutte le fasi dell'interazione. E se stai guardando questo video al momento della sua pubblicazione, Carpe Knight è ancora in offerta lancio per pochissimo, quindi se sei interessato ti consiglio di darci un'occhiata al link in descrizione.